Ciao a tutti amici Nerazzurri, bentornati sul canale, bentornati su Filippo Tramontana TV. Allora ragazzi, oggi è lunedì, io ho perso al fantacalcio e anche se ci sono ancora due partite da giocare, ho giocato in dieci, perché purtroppo ho una moria di giocatori tutti infortunati, l'ultimo che mi si è infortunato è Banda, questa volta ho deciso di provare comunque a rischiare le tre punte, lo stesso anche senza panchinari, perché ero convinto che comunque Taremi i suoi venti minuti li avrebbe giocati, quindi ho schierato Taremi, ho schierato Castellano, ho schierato Beltran, Castellanos continua a non fare gol, Taremi non gioca, l'unico che mi salva un po' è Beltran, però giocando in dieci è difficile, quindi lunedì che dal punto di vista fantacalcistico non mi esalta granché, anzi ho già perso la partita. Vabbè, giusto per aprire una parentesi e chiuderla in un anno secondo, cosa che interesserà a nessuno di voi, però se volete condividermi qua sotto nei commenti i vostri risultati parziali, perché mancano ancora due partite, ripeto, del fantacalcio, scrivetimelo pure, magari condividiamo la sfiga di questa giornata. E invece no, perché no, per chi invece è andato bene può tranquillamente scrivermi che la sua partita sta andando bene o è andata bene. No, niente, parentesi fantacalcistica, perché oggi comunque facciamo un discorso un po' generale su quello che è successo in questo weekend calcistico per quanto riguarda la classifica, perché usciamo da un sabato importante con una vittoria roboante al 20 godi, 5 gol fatti, 0 subiti e una testa della classifica che abbiamo guadagnato per un giorno. Dopodiché c'è stato Milan-Juventus e soprattutto poi sono scese in campo le squadre che erano appaiate con noi e davanti a noi e hanno vinto tutte. Quindi è un weekend che ci restituisce un Inter in forma, un Inter che sta bene, ci restituisce due giocatori che tornano come Cialanoglu e Lautaro, che saranno a disposizione contro l'Ipsi a martedì sera. Dall'altra parte però c'è una Cerbi che si fa male e oggi anzi sapremo meglio quelle che sono le sue condizioni, che saranno poi i tempi di recupero per il suo ritorno in campo. Dall'altra parte ci sono le notizie non tanto positive per noi, perché tutte le altre nostre concorrenti, ad eccezione della Juventus che ha pareggiato con il Milan, hanno vinto. Quindi diciamo che la nostra vittoria è stata importante per rimanere con le altre, perché poi alla fine le altre hanno vinto tutte. Continua a avere uno strapotere abbastanza incredibile l'Atalanta, infatti quando poi Conte parla nella conferenza stampa post partita dopo la vittoria contro la Roma parla dell'Inter e dell'Atalanta come le squadre più accreditate per vincere, poi che sia gioco, non gioco, che sia pretattica, che sia tattica, giochi psicologici, questo non lo so, però quando Conte dice che l'Inter è la squadra che da anni gioca con lo stesso allenatore e che ha vinto l'ultimo campionato a mani basse è un dato di fatto, non sta inventando niente di nuovo ed è vero, ed è vero che l'Inter è più avanti del Napoli a livello di costruzione, quindi questo è innegabile. Quindi quando Conte dice noi non lottiamo per il campionato, io non sono d'accordo, per me quella è tattica e pretattica. Quando Conte dice che però per il campionato è favorita l'Inter, sono d'accordo con lui perché ha lo stesso allenatore da tanti anni, è vero è un dato di fatto perché l'anno scorso ha vinto con 20 punti di vantaggio, è vero è un dato di fatto perché è una squadra costruita per vincere o per provare a vincere su più fronti, è vero è un dato di fatto, quindi su questo discorso a Conte non gli si può dire assolutamente nulla. Per quanto riguarda l'Atalanta fa un discorso costruttivo anche su quello, perché dice che l'Atalanta l'anno scorso ha vinto l'Europa League battendo tante squadre forti, compreso il Bayer Leverkusen, e ha ragione anche su questa cosa qua. Quando si nasconde invece sullo Scudetto eccetera eccetera, ecco secondo me non ha ragione, non sono d'accordo con lui e basta. Poi non entro negli episodi arbitrali che insomma io ho sentito parlare di Lukaku, qualche ex arbitro che dice che doveva essere espulso, le lamentele di Ranieri, però sinceramente tornare e ritornare ogni volta sugli arbitri per quello che Conte ha detto dopo l'Inter e perché non l'ha detto questa volta. Io lo trovo veramente stucchevole, io spero che non si faccia più questo giochino qua, spero che non si parli più degli arbitri quando non c'è bisogno di parlarne. Poi quando ci sono degli episodi eclatanti è giusto che se ne parli, ma quando si tirano fuori quelli di Inter-Napoli che non esistono, o questo qua di Lukaku che doveva essere espulso, quando si va a cercare le inezie perché quello ha detto l'altra volta quella cosa lì e quindi perché non l'ha detta questa volta, diventa veramente una rincorsa stressante che toglie tutta l'energia dal calcio. Io spero che Conte la prossima volta ci pensi dieci minuti in più prima di accusare un arbitro del nulla come è successo in Inter-Napoli, eccetera. Comunque, detto questo, questa giornata ci restituisce una classifica molto simile a quella vecchia, perdono terreno solo Milan e Juventus. Il Milan ormai sembra lontanissimo dalla possibilità di lottare per lo scudetto, stiamo parlando di una squadra che in questo momento ha 19 punti in classifica, il Napoli è primo in classifica con 29, se non mi ricordo male noi ne abbiamo 28, sì 29, quindi sono dieci punti in più per quanto riguarda il Napoli, è vero il Milan ha una partita in meno che deve recuperare contro il Bologna che sta dimostrando di essere una squadra comunque battibile, abbiamo visto anche contro la Lazio, però non è tanto il fatto che il Milan abbia dieci punti dalla prima, è il fatto che davanti al Milan ci siano sette squadre, quindi quando hai così tante squadre davanti anche recuperare tutto questo terreno non è facile, siamo a dicembre ormai, il campionato comunque è ancora molto lungo, ma giocando in settimana, avendo tante squadre davanti, avendo un ritardo di dieci punti dalla prima, di nove dalle seconde, insomma diciamo che la rincorsa diventa proibitiva, soprattutto perché il Milan non ha questa continuità di rendimento, quindi dicevo la classifica recita punteggi molto molto bassi per rispetto alla media degli scudetti, ma molto bassi, un pochino più bassi e tante squadre attaccate, dopodiché c'è il solco dopo la Juventus, quindi il Napoli 29 punti e poi ci sono Inter, Atalanta, Lazio e Fiorentina a 28 punti, quattro squadre seconde a 28 punti a un punto solo dalla prima che è il Napoli, dopodiché arriva la Juventus che ne ha 25, quindi ha due punti dalle seconde e ha tre dalla prima, comunque sempre molto vicina anche la Juventus. Settimana prossima l'Inter avrà un impegno che è uno scontro diretto, perché abbiamo parlato fino ad oggi degli scontri diretti dell'Inter, l'Inter ha zoppicato in questi scontri diretti, però ha vinto contro l'Atalanta, contro la Roma all'Olimpico, secondo me non è uno scontro diretto per la classifica, ma vincere all'Olimpico comunque non è facile, non mettiamolo come scontro diretto vista la classifica, quindi facciamo l'Atalanta, l'Inter ha vinto molto bene a San Siro, ha perso contro il Milan, ha pareggiato contro la Juventus e ha pareggiato contro il Napoli, gli scontri diretti ad oggi per quanto riguarda l'Inter non sono andati granché, sono andati anzi direi abbastanza male, una sola vittoria, due pareggi e una sconfitta, che poi tra l'altro è l'unica sconfitta in questa stagione per ora dell'Inter, quella contro il Milan a San Siro. Adesso si va a Firenze, la Fiorentina sta andando alla grande, ha vinto ancora 2-0 a Como, ha segnato ancora a Ken, ha segnato a Dli, che sta comunque facendo un ottimo avvio di stagione, avvio, ormai siamo un bel po' un ottimo inizio di campionato, è una Fiorentina che sta bene, che è in forma, che segna tanto, che subisce poco, che ha un leader in porta che è De Gea, e che renderà all'Inter la partita molto complicata. Allora andiamo un po', visto che della classifica e dei risultati abbiamo parlato, l'Atalanta ha vinto molto bene, col Parma e la Fiorentina ha vinto molto bene a Como, la Lazio ha vinto in casa contro il Bologna, anche aiutata, non aiutata come favore, ma nel senso che il Bologna è rimasto in 10, quindi tutto il secondo tempo in 11 contro 10 ha aiutato la Lazio a battere il Bologna, quindi hanno vinto tutte, l'Inter ha questo scontro diretto, però la cosa che può essere favorevole all'Inter, al di là della forza della squadra, è che comunque in questa settimana ci sono gli impregni infrasettimanali, e voi direte, vabbè, ma che favore è per l'Inter? Beh, insomma, l'Inter gioca martedì sera, martedì sera, una partita fondamentale con l'Ipsia, perché se l'Inter vince contro l'Ipsia, praticamente ha un piede e mezzo agli ottavi di finale diretti, tra le prime otto della classifica Champions, poi bisogna giocare ancora tre partite, hai il Leverkus in fuori casa, hai lo Spartapraga fuori casa, e hai il Monaco in casa, tutto vero all'ultima giornata del Monaco a San Siro, a fine gennaio, però è anche vero che se batti l'Ipsia, che è l'altra della prima fascia, dopo aver pareggiato col City e fuori casa, hai queste tre partite, e hai una grande possibilità di fare molti punti, ok, stavo dicendo, l'Inter giocherà martedì sera, impegno infrasettimanale che ti toglie via energie psicofisiche, però la Fiorentina, nostra avversaria, giocherà a Firenze, e quindi va bene, l'Inter in casa non fa la trasferta, così come la fa la Fiorentina, ma la Fiorentina giocherà giovedì sera, impegno sicuramente meno gravoso, rispetto a quello dell'Inter con l'Ipsia, in Conference League, però una partita che comunque ti porta via energie, la Fiorentina, la Conference League la vuole vincere, è arrivata in finale nelle ultime due edizioni, non l'ha vinta, è una protagonista di quella competizione, e la giocherà per vincere, e quindi insomma diciamo che domenica sera, alle 18 potremo vedere una squadra molto forte, contro un'altra squadra molto forte, ma forse l'Inter potrebbe approfittare della due giorni in più di rifoso rispetto alla Fiorentina, poi bisognerà vedere cosa farà Palladino nei cambi, nel turnover, bisognerà vedere come farà il turnover anche Simone Inzaghi, però diciamo che giocare due giorni dopo, e avere due giorni in meno di riposo, in vista alla partita di domenica alle 18, può essere un vantaggio per l'Inter, comunque campionato che fino ad oggi, visto siamo alle porte di dicembre, quindi ormai la prima parte di stagione, sta per concludersi, un campionato avvincente, perché ci sono tantissime squadre in tre punti, ed è molto molto bello vedere questo equilibrio, poi speriamo che questo equilibrio, prima o poi si spezzi a favore nostro. Va bene ragazzi, ditemi cosa ne pensate voi di questo campionato, delle rivali, chi vi fa più paura, qua nei commenti, vi ricordo di attivare la campanella, per avere la notifica dei video, di cliccare il pollice in su, se il video vi è piaciuto, e poi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, che stiamo andando belli spediti verso i 50.000, Io vi saluto, vado a Tele Lombardia adesso, siamo in diretta dalle 11 e mezza, quindi per chi vuole vi può seguire, e vi do appuntamento invece nella serata, insomma con il video di questa sera, speriamo di avere delle notizie, un pochino più aggiornate, su Francesco Acervio, speriamo che non sia niente di grave, di poterlo riavere il prima possibile, ciao ragazzi, sempre Forza Inter, buon lunedì. Buon lunedì.